Il programma è stato costruito anche quest'anno, come sempre, cercando di combinare artisti di fama internazionale con alcuni tra i migliori giovani della panorama musicale internazionale, in primis i vincitori dei concorsi internazionali di musica della Valtidone. È interessante rilevare che, anche quando abbiamo optato per nomi di fama internazionale, non li abbiamo scelti con i loro progetti più ascoltati, ma con progetti nuovi, coinvolgenti giovani, a loro volta provenienti da tutto il mondo. Ecco così che, per esempio, Paolo Fresu sarà a San Nicolò, non con il suo quintetto storico, ma con il gruppo nipo-argentino dei Gaia 4, che Elio sarà a Gragnano, non con le storie tese, ma con il pirotecnico Colora Swingatrio, di cui peraltro fanno comunque parte musicisti che suonano con lui, con le storie tese, fra cui Cristian Maier. Ecco che Tudio De Piscopo sarà ad Agazzano con Mattia Cigalini e il suo quartetto, Grazia Di Michele sarà a Pecorara, non con il suo progetto pop, ma con il trio di Paolo Di Sabatino, con cui ha realizzato un bellissimo disco. Tra gli eventi clou, l'assegnazione del premio Libertà, sabato 16 giugno, nell'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Quest'anno è il decennale del premio Libertà per i concorsi della Valtidone, i concorsi di piano della Valtidone, che sono ormai arrivati alla decima edizione del premio Libertà, che si tengono in fondazione. E quindi aspettiamo molti ospiti per la serata inaugurale del Valtidone Festival. È la prima serata in cui si verranno svelati i nomi dei tre vincitori.